Violando anche i divieti di avvicinarsi che gli erano stati imposti dal tribunale, un uomo di 52 anni di Sciacca continuava a perseguitare, minacciare e molestare la sua ex compagna. Adesso per lui si sono aperte le porte del carcere. Presentata ieri al Museo del Carnevale, l'edizione 2020 della festa in maschera di Sciacca sarà la prima con il ticket d'ingresso, un contributo simbolico sia per i visitatori sia per i residenti. In programma 5 giorni sfilate dei carri allegorici. La mozione di sfiducia non è ancora un caso chiuso, lo dichiara oggi il consigliere comunale di opposizione Emilioti, che poi attacca il presidente del Consiglio Comunale Montalbano, i Cusumaniani, ma anche Fabio Termine e Michele Catanzaro. Non abbiamo mai detto che avremmo votato la mozione di sfiducia, noi siamo sempre stati un gruppo coeso. Così si legge in una nota il gruppo d'Italia Viva, che a proposito di divisioni invita Matteo Mangiacavallo a guardare nel suo orticello. Manifestazione del 6 marzo per le terme di Sciacca, il Comitato Civico Patrimonio Termale continua l'opera di sensibilizzazione attraverso incontri nelle scuole, ma che con Nino Porrello lamenta che da un mese attende una convocazione del sindaco. C'è anche l'ecomuseo dei Cinque Sensi, tra quelli della Sicilia, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale istituzionale da parte della regione siciliana. Grande soddisfazione di Viviana Rizzuto, adesso si può dire superato il nostro alibi di città litigiosa. Un cordiale benvenuto su Telemontecronio e bentrovati per una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi la cronaca in apertura, continue minacce e molestie, l'ex compagna finisce in carcere un 52enne Sacenze, nonostante i divieti già imposti dal giudice, continuava a perseguitare la donna. Ci spiega tutto in questo servizio Maria Genuardi. I carabinieri di Sciacca hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 52enne Sacenze, colpevole di atti persecutori e lesioni nei confronti di una donna di Menfi. L'uomo GFL iniziali avrebbe più volte negli ultimi mesi del 2019 fino a gennaio di quest'anno tenuto condotte persecutorie nei confronti della vittima, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto da obbligarla a trasferirsi presso l'abitazione del fratello, provocandole dunco un perdurante stato di ansia e paura. In più circostanze, infatti, nonostante i divieti già imposti dal giudice, il 52enne Sacenze si è appostato vicino all'abitazione dell'ex compagna per poi pedinarla nei suoi spostamenti quotidiani. In più occasioni, inoltre, aveva pubblicato nel profilo Facebook della donna diversi post offensivi nei suoi confronti, arrivando in un'occasione dopo aver ottenuto un appuntamento con la vittima, a metterle le mani addosso afferrandola per il collo dopo averle anche danneggiato l'auto. Alla fine, la donna ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Sciacca e denunciare il suo ex compagno. L'attività investigativa dei militari dell'arma ha portato il GIP del Tribunale di Sciacca ad emettere nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, così come richiesto dalla locale procura della Repubblica di Sciacca, che ha coordinato l'attività dei militari. L'arrestato è stato portato, dopo le formalità di rito, presso la casa circondariale di Sciacca. L'attività testimonia la grande attenzione da parte delle istituzioni, Procura della Repubblica in primis ed Arma dei Carabinieri, sul grave fenomeno della violenza di genere, nello specifico contro le donne. In questa occasione il coraggio e la tempestività della vittima nel denunciare le condotte tenute dall'ex compagno ha permesso alle istituzioni di poter rispondere in tempo, al fine di far cessare i comportamenti persecutori dell'uomo, permettendo alla donna di riappropriarsi della propria tranquillità e serenità. Rifiuti raccolta regolare stamattina in città con il porta a porta ripreso e la frazione differenziata della spazzatura regolarmente ritirata. Continua invece ad essere gravissima la situazione nelle periferie, dove ancora non è stato disposto l'intervento di bonifica, nelle aree dove insistono i cassonetti di prossimità. Le foto che vi mostriamo sono state scattate da un residente e testimoniano le condizioni in cui versava stamattina con Tradacchiana Scunchi Pani, località che è solo una delle periferie in cui insistono ancora i cassonetti e dove tantissimi cittadini vanno a conferire la spazzatura. Residenti esasperati perché non avendo loro il servizio porta a porta sono giocoforza obbligati a conferire lì l'immondizia. Ma sono zone queste diventate discariche dell'intera città e per la loro bonifica ci vuole una soluzione che impiega tempo e denaro pubblico. Apriamo la pagina dedicata al Carnevale, cinque giorni di sfilate dei carri allegorici, la presenza di ospiti di fama nazionale, alcuni momenti della festa nei quartieri della città. Tutto pronto per l'edizione 2020 del Carnevale di Sciacca, la prima con il ticket d'ingresso, un contributo simbolico che verrà chiesto a visitatori e residenti. Ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione al Museo del Carnevale. Per noi Noemi Tugnolo. Tutto pronto per l'edizione 2020 del Carnevale di Sciacca in programma dal 20 al 25 febbraio. Ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata anche quest'anno dalla Futuris SRL. Cinque giorni di sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del centro storico e spettacoli sul palco di Piazza Angelo Scandaliato ma anche ospiti ed artisti di fama nazionale. Ci saranno due live di alto livello. Sabato 22 febbraio si esibirà il rapper Shade in vetta a tutte le classifiche con il singolo Allora Ciao. Lunedì 24 febbraio invece spazio ad Ana Mena, cantante spagnola, regina della scorsa estate, con il singolo Una Volta Ancora ed ospite speciale al Festival di Sanremo. Domenica 23 febbraio testimoniale della serata sarà la showgirl Sara Croce, volto di spicco della trasmissione di Canale 5 Avanti Un Altro condotta da Paolo Bonolis. Ma i veri protagonisti della festa saranno come sempre i carri allegorici in concorso. Cinque quelli di fascia A, due i minicarri più il Peppe Nappa. Giovedì 20 febbraio apertura della manifestazione con esibizione dei gruppi mascherati dapprima nel quartiere di San Michele, poi in via Licata nell'area della Chiazza e inserata sul palco di piazza Scandaliato. Venerdì 21 febbraio la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al Peppe Nappa aprirà la sfilata dei carri allegorici dalla via Cappuccini. Da sabato a martedì il corteo mascherato, come da tradizione, sfilerà invece dal viale della Vittoria. Domenica mattina torna il tradizionale appuntamento con il Carnevale dei Bambini dalle 11 alle 13 sul palco della piazza. E sempre di mattina ci sarà il posizionamento dei carri allegorici lungo Corso Vittorio Emanuele per uno spettacolo musicale scenografico. Le recite dei copioni dei carri sono previste nelle serate di venerdì, sabato e lunedì. Martedì 25 febbraio a chiudere la manifestazione sarà il tradizionale rogo del Peppe Nappa. Sabato 15 febbraio anteprima Carnevale con Arriva la Festa, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso presso l'hotel Alicudi del complesso alberghiero di Sciacca Mare. Ad organizzare l'evento La Futuris di Giuseppe Corona, società che ha gestito l'edizione dello scorso anno e che organizzerà la manifestazione anche nel 2021. Eccezione fatta per i premi ai carristi, tutti gli altri aspetti della festa sono in capo alla Futuris, una formula quella di esternalizzare servizi di cui il Comune non può fare a meno. E l'assessore Sino Caracappa sottolinea l'importanza dell'affidamento biennale della festa. Seguiamo quest'altro servizio. La grande novità del Carnevale di Sciacca 2020 è indubbiamente l'introduzione del ticket d'ingresso alla manifestazione. Inserito nel bando per l'affidamento della gestione dei servizi legati alla festa verrà applicato in via sperimentale già da questa edizione per poi perfezionarsi il prossimo anno. Si pagherà a partire da sabato 22 febbraio e sarà di 4 euro al giorno per i visitatori che potranno optare per un abbonamento alle 4 serate al costo di 10 euro mentre per i saccensi il ticket sarà di 2 euro al giorno con possibilità di abbonamento al costo di 5 euro per tutte e 4 le serate. Saranno esclusi dal pagamento del ticket i bambini, quanti risiedono o hanno un'attività commerciale all'interno del circuito della festa e coloro che hanno un ruolo attivo nella manifestazione e cioè coreografi, copionisti e tutti gli operatori del Carnevale. Futurist al lavoro in queste ore per definire uno degli aspetti indubbiamente più impegnativi della organizzazione di quest'anno, qual è per l'appunto l'introduzione del ticket d'ingresso presente nei più famosi carnevali d'Italia ma anche in tantissime altre manifestazioni ed eventi di maggiore richiamo in diverse città. Noi da bando abbiamo l'obbligo di farlo nel 2021 però è ovvio che una prova sperimentale quest'anno la dobbiamo fare perché dobbiamo capire quali sono eventualmente gli accorgimenti da apportare poi in corso. Quindi quest'anno ci sarà un ticket d'ingresso che comunque verrà... Noi metteremo delle persone che spiegheranno un po' tutte le varie modalità di pagamento, di esenzione, perché quindi in modo da fare capire a tutti quanto sarà semplice poi alla fine la gestione di questa situazione. Stichette che pagheranno anche ai saccenzi? Ma non proprio, anche lì ci sono delle particolari formule di abbonamento, di esenzioni sarà più spiegato ancora meglio perché non è proprio fisso per i saccenzi come non sarà neanche fisso per le persone che vengono da fuori. Ci saranno dei particolari abbonamenti, dei particolari pacchetti che consentiranno proprio al prezzo di un caffè di poter godersi la manifestazione. Naturalmente l'organizzazione della festa comprende anche tantissimi altri aspetti e quest'anno include ulteriori servizi che fino allo scorso anno erano gestiti dal Comune. Noi abbiamo partecipato a un bando che prevede l'appalto biennale e quindi per noi è stata questa la scintilla che ci ha fatto muovere per l'organizzazione della manifestazione. Noi abbiamo in testa già un'idea per il 2021, perché il 2021 finalmente avremo un anno di tempo per poter lavorare sul Carnevale. A differenza di quest'anno che abbiamo i giorni contati con servizi nuovi che fino all'anno scorso non venivano gestiti dalla società privata ma dal Comune, quindi stiamo facendo di tutto per creare anche quest'anno un'edizione che sia di alto livello. Futuris che si dice soddisfatta di aver apportato delle novità alla manifestazione. Quest'anno avremo gli ospiti di caratura nazionale, perché avremo tre ospiti che praticamente aglieteranno la manifestazione e che sposeranno la nostra caratteristica che ha del Carnevale, che sia lo spettacolo sul palco. Noi ne avremo sopra il palco, saranno insieme ai carri allegorici, quindi creeremo qualcosa di più particolare, perché accanto al nostro spettacolo che è la peculiarità classica che c'è del Carnevale, che ci contraddistingue dagli altri Carnevali, ma ci saranno questi importanti ospiti che permetteranno a chi verrà anche da fuori a trovarci a vedere degli spettacoli importanti. L'assessore allo spettacolo, Sino Caracappa, unico rappresentante dell'amministrazione comunale presente ieri alla conferenza stampa, si dice certo che la città si appresta a vivere una gran bella edizione del Carnevale. Sarà un'edizione in cui ci saranno dei cambiamenti, non dal punto di vista artistico, sicuramente sarà molto più ricca per alcuni contenuti, per il resto andiamo sul solco della tradizione e soprattutto andiamo a far sì che questo Carnevale diventi una grande festa popolare, rivolta soprattutto alle famiglie e ai bambini. Quella di affidare la gestione ed organizzazione della festa ai privati è ormai la soluzione su cui si punterà anche in futuro. Noi abbiamo fatto questo affidamento che ha un carattere biennale e per cui già dall'ultimo giorno della festa la società sarà nelle condizioni di poter lavorare per una grande edizione del prossimo anno. Non nascondo la mia voglia di far sì che il Carnevale venga affiudato ancora per più anni in maniera tale che chi se lo aggiudica possa lavorare e procedere anche a investimenti, ai coinvolgimenti maggiori, a crowdfunding, a ricerca di sponsor e altro. Quindi il Carnevale va assolutamente rilanciato, va valorizzato. Per fare questo è chiaro che ci vogliono delle figure professionali adeguate che non si possono trovare all'interno del Comune, con tutto il rispetto per le professionalità del Comune, ma va soprattutto affidato a gente che dell'imprenditoria, dello spettacolo e dell'intrattenimento ne fa mestiere. La Futuris intanto ha attivato un numero di telefono contattando il quale si possono avere tutte le informazioni sull'acquisto dei ticket. Il numero è 333 924 6256. Si lavora contestualmente alla predisposizione di un regolamento che disciplinerà gli accessi, gli ingressi e che verrà diramato nelle prossime ore. Ci fermiamo per la prima pausa, restate ancora con noi. La mozione di sfiducia non è ancora un caso chiuso. Questa è l'opinione di Giuseppe Emilioti, che oggi al nostro telegiornale torna ad attaccare politicamente il gruppo Cusumano. Sono interessati alle poltrone. Massimo D'Antoni. Aspettiamo ancora una risposta dal Presidente Montalbano. Personalmente io non sono convinto che la questione sia da considerarsi chiusa. Così oggi al nostro telegiornale Giuseppe Emilioti, uno dei firmatari della mozione di sfiducia su cui pende l'incognita della presunta decadenza. Si aspetta il parere da parte della Secretaria e ribadisco la continua mancanza di rispetto del Presidente del Consiglio che dovrà comunicarci ufficialmente qual è il parere della Secretaria e capire cosa facciamo. Ancora il Presidente del Consiglio non ha comunicato nulla a noi consiglieri comunali. Non siete convinti che possa essere dichiarata decaduta questa mozione? Il collega Bono voleva la possibilità di parlare anche per chiedere alla Secretaria Lumi su un eventuale rinvio della stessa mozione perché c'era l'assenza che non capiamo ancora di alcuni consiglieri comunali in aula e quindi avere la certezza di trattare una mozione con tutti i suoi crismi e il plenum del Consiglio Comunale. Nell'intervista rilasciata al nostro telegiornale Giuseppe Emilioti non nega che nel frattempo siano intervenute delle novità sostanziali nel dibattito politico e se la prenda ancora una volta con i Cusumaniani. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Penso che Cusumano sia più in linea con la politica adottata dal centro-sinistra, cioè quella delle poltrone, perché arrivato ad un certo punto Cusumano voleva passare ad altri accordi politici, ricevuto picche dal centro-destra e ritornato di nuovo nel centro-sinistra perché l'unico obiettivo di Cusumano è quello di riservare le poltrone e avallare gli obiettivi politici del collega Ambrogio che vuole andare alle provinciali. Quindi hanno messo davanti alla mozione di sfiducia gli obiettivi personali di un consigliere comunale. La componente Cusumano è che una settimana prima dice alla Valenti che non si ripete più nel progetto politico, addirittura parla di un collocamento della componente nel sottoscala. Ora probabilmente il sindaco, non lo so, ha pulito il sottoscala, ha messo delle poltrone molto comode e quindi ritorna all'ovile. Per dirla semplicemente hanno fatto finta di voler votare questa mozione di sfiducia, in realtà fanno finta di litigare ma poi sono d'accordo. Ma dare picchi a Cusumano il primo è stato lei? Questo non significa che il centro-destra non poteva iniziare un percorso con la componente Cusumaniana. Io non sarei stato della partita perché ritengo che nella vita anche politica bisogna avere un po' di coerenza. Poi Migliotti difende Pasquale Bentivegna. Non condivido la linea che voleva adottare il consigliere Bentivegna ma la rispetto. Ma non si può parlare di spaccature del centro-destra, c'è solo la posizione del consigliere Bentivegna che non è in perfetta linea con quella che volevamo noi. Una mancata trattazione della mozione di sfiducia che secondo Migliotti ha permesso a qualcuno da lui considerato indeciso, ancorché sottotraccia, di vedersi togliere le castagne dal fuoco il riferimento espresso a Fabio Termine. Tendenamente prese di distanza sulla mozione di sfiducia nonostante l'abbia firmata per esempio dal collega Termine che ancora non è intervenuto sull'argomento. C'era da una parte chi voleva veramente che questa mozione di sfiducia fosse votata, da altra parte posizioni politiche un po' ambigue che non capisco se volevano votarla o ha fatto comodo quello che è successo. Infine a proposito delle valutazioni rilasciate al nostro telegiornale da Michele Catanzaro contro la mozione di sfiducia, Migliotti accusa il parlamentare regionale del PD di trasformismo. Non ne ricevo lezioni da parte di chi solo per attaccamento a un seggio all'arse è passato dall'estrema destra all'estrema sinistra. Non penso sia lui a dettare o a fare lezioni di buona politica, sia la persona meno adatta. Il gruppo consigliare di Italia Viva intanto ribadisce di non avere mai fatto dichiarazioni sul voto alla mozione di sfiducia e dunque di non essersi impegnato a favore o contro. Siamo un gruppo coeso, dichiarano poi riferimento alle dichiarazioni ieri del parlamentare Matteo Mangiacavallo, invitato a guardare piuttosto all'interno del suo orticello. C'è il servizio. L'onorevole Matteo Mangiacavallo guardi all'interno del suo orticello anziché al nostro. Così il gruppo di Italia Viva che oggi sottolinea di non avere mai dichiarato e comunicato alcuna intenzione di voto sulla mozione di sfiducia. L'unica dichiarazione ufficiale, sostengono, è quella dell'onorevole Nuccio Cusumano che nello scorso dicembre aveva detto noi fuori dalla maggioranza ci riprenderemo la nostra autonomia aggiungendo poi non ci saremo neanche per la mozione di sfiducia perché non saremo noi a determinare un vuoto di governo. Per Italia Viva il parlamentare pentastellato Matteo Mangiacavallo avrebbe cercato dunque di strumentalizzare un post dell'ex assessore Carmelo Brunetto. Post che il gruppo Cusumano rimarca di condividere perché rispecchia in pieno dicono la nostra idea di politica, quella di andare oltre gli steccati aprendo alle forze responsabili della città. Dichiarazione che conferma, qualora qualcuno avesse avuto dubbi che il post dell'ex assessore Brunetto non era un'iniziativa personale e infatti il gruppo che fa riferimento a Nuccio Cusumano dichiara di condividere il post di Brunetto ritenendo che la mozione di sfiducia oggi è inutile. Del resto aggiungono non sarebbe stata votata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che infatti non l'ha firmata. Non si possono addossare responsabilità e tagliavio al consigliere Bentivegna aggiungono poi riferendosi alle dichiarazioni rese ieri al nostro telegiornale da Matteo Mangiacavallo. Il nostro gruppo, concludono, ha sempre dichiarato di non essere disponibile a firmare la mozione ma che avrebbe deciso in consiglio comunale, non al bar. Isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento domani l'atteso confronto con il Vice Ministro Cancelleri e Vertici Anas e per l'occasione il cartello sociale promotore della marcia del 25 gennaio scorso chiama nuovamente gli egrigentini a sostenere le rivendicazioni della provincia e a partecipare ad un sit-in davanti ai locali della Prefettura. C'è il servizio. Nuova iniziativa domani del cartello sociale che ha promosso la marcia del 25 gennaio scorso in occasione dell'atteso confronto con il Vice Ministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e Vertici dell'Anas. Per dare forza alle rivendicazioni della provincia in concomitanza con il vertice che si svolgerà nei locali della Prefettura l'Ufficio di Pastorale Sociale Cigelle e Cisle Will chiedono agli agrigentini di partecipare ad un sit-in che si terrà davanti alla Prefettura di Agrigento dalle ore 10 alle 13. È opportuno far comprendere che la battaglia non viene portata avanti solo dalla Chiesa, dai sindacati, dai sindaci e dalle organizzazioni di categoria ma che il popolo agrigentino a gridare a gran voce l'indignazione per lo stato di abbandono delle strutture viarie e non solo. Hanno evidenziato oggi i segretari provinciali di Cigelle e Cisle Will che nei giorni scorsi hanno scritto al Prefetto anticipando alcuni dei temi che porranno al tavolo di confronto con il Vice Ministro Cancellieri. Tra le opere ritenute prioritarie Ponte Petrusa, Viedotto Acregas e le statali 189, 640 e 115. Per l'ammodernamento infrastrutturale il cartello sociale intende chiedere impegni precisi sui lavori da effettuare. Al vertice di domani mattina in Prefettura prenderanno parte i sindaci dei comuni agrigentini ma il cartello sociale che sta portando avanti la mobilitazione ha voluto coinvolgere anche i consigli comunali della provincia nell'approvazione di una delibera a sostegno della lotta intrapresa contro l'isolamento infrastrutturale iniziativa alla quale hanno aderito tra gli altri i consigli comunali di Menfi e Ribera. Manifestazione del 6 marzo per le terme di Sciacca il Comitato Civico continua l'opera di sensibilizzazione con incontri nelle scuole Comitato che da un mese attende di essere ricevuto dal sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale di Sciacca. Sentiamo. Prosegue senza sosta l'azione di sensibilizzazione del Comitato Civico Patrimonio Termale in vista della manifestazione del 6 marzo a Sciacca. Si sta puntando molto sul coinvolgimento delle scuole. Abbiamo partecipato a un'assemblea, non un'assemblea, proprio un momento dedicato anche grazie alla dirigente scolastica con tutti i ragazzi, le terze, le quarte e le quinte dell'Istituto Alberghiero e Agrario Amatovetrano in auditorium, erano circa 500 ragazzi. È stato un momento bello, l'attenzione da parte dei ragazzi è stata notevole e abbiamo cercato di trasmettere a questi ragazzi la consapevolezza che l'azione che il Comitato Civico sta svolgendo passa attraverso le loro gambe. Noi agiamo, lavoriamo e stiamo facendo questo innanzitutto e soprattutto per le giovani generazioni di Sciacca. Per ragazzi che domani, se questa città finalmente si sviluppasse da un punto di vista turistico e termale, potrebbero avere un futuro occupazionale qui, un futuro che oggi viene rubato da una politica scellerata che ha privato, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, questa città del bene più importante. E quindi abbiamo proprio fatto appello nella maniera più passionale che riuscivamo alla sensibilità di questi ragazzi per smuoverli un po' dalla loro quotidianità e capire che esserci il 6 marzo può rappresentare un tassello del loro futuro. Non solo gli studenti, per il Comitato Civico è importante la presenza dell'istituzione scuola alla manifestazione del 6 marzo. Un appello che vogliamo lanciare è importante la presenza, la presenza dei ragazzi non solo da un punto di vista numerico alla manifestazione, al corteo, ma proprio per il fatto che di partecipare a una cosa che può essere una svolta per la città, ma anche riteniamo sia importante la presenza dell'istituzione scuola. Io lancio, come posso dire, un appello ai dirigenti scolastici. Ritengo che da un punto di vista educativo la presenza di tutti i dirigenti scolastici proprio nella loro espressione istituzionale, al corteo e in prima fila, possa avere un significato assolutamente fondamentale. È come dire, la scuola c'è. Intanto il comitato evidenzia come da circa un mese abbia chiesto un incontro al sindaco di Sciocca Francesca Valenti e al presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano senza aver ottenuto ad oggi alcuna risposta. Ci hanno già informalmente dato le adesioni, però abbiamo chiesto un incontro anche formale in cui rappresentare quello che è lo spirito dell'iniziativa e anche le sue modalità concrete. Devo dire che dopo un mese siamo ancora in attesa dell'incontro. Sicuramente c'è stata la vicenda della mozione di sfiducia che ha un po' distolto l'attenzione. Però speriamo di essere quanto prima ricevuti dal primo cittadino e dal presidente del Consiglio Comunale anche perché riteniamo giusto che il coinvolgimento dei sindaci del territorio al di là dell'invito diretto che faremo senz'altro noi anche con una lettera credo che il comitato ritiene come portavosti del comitato devo dire che è giusto che sia il sindaco nella sua veste istituzionale che interpelli i sindaci del territorio per sensibilizzarli e portarli a questa manifestazione del 6 marzo. Intanto il tavolo tecnico per le terme di Sciacca costituitosi su iniziativa dell'associazione Ora Basta incontrerà domani mattina gli ordini professionali per illustrare e dibattere i contenuti del bando a loro predisposto e presentato nello scorso mese di novembre. Nel frattempo evidenziano è scaduto il termine dell'avviso per la manifestazione di interesse di privati per l'affidamento in concessione delle terme di Sciacca e non è stata presentata alcuna proposta. Tavolo tecnico dell'associazione Ora Basta che preso atto degli esiti negativi ribadisce l'inopportunità della vendita dell'ex motelagip che mette in rischio l'integrità del complesso termale. Si riunirà mercoledì 12 febbraio alle 18.30 il Consiglio Comunale di Ribera un solo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del progetto di fattibilità inerente ai labori di realizzazione di un collettore fognario per la regimentazione delle acque bianche nella parte terminale di Viale Romagna. C'è anche l'ecomuseo dei Cinque Sensi di Sciacca tra quelli che la regione siciliana ha istituzionalizzato con un apposito decreto per la promotrice principale del museo diffuso Saccenze Viviana Rizzuto è un grande risultato che dà ragione a chi ha creduto in questo progetto. Vediamo. È quella speranza che non è più speranza perché quando speri stai fermo ad aspettare quindi tra l'altro Sciacca si è anche persa la speranza. Secondo Viviana Rizzuto dunque il riconoscimento garantito dalla regione siciliana all'ecomuseo dei Cinque Sensi può rappresentare addirittura un'inversione di tendenza per permettere alla città di Sciacca di recuperare il suo prestigio. È stato Nello Musumeci in qualità di assessoria dei beni culturali delega da lui detenuta ad Interim a firmare il decreto con cui si sblocca l'attuazione della legge regionale 16-2014 che riconosce ecomusei all'aperto il mare a memoria viva di Palermo il Madonie di Castellana Sicula il Grotta del Drago di Scordia il Cielo e Terra di Ecireale il Riviera dei Ciclopi di Ecicastello il Valle dell'Oddiero di Militello Val di Catania i luoghi del lavoro contadino di Buscemi Palazzola Greide gli Iblei di Canicattini Bagni nel Siracusano i Cinque Sensi di Sciacca i Sentieri della Memoria di Campobello di Licata il Rocca di Cerere e Geopark di Enna. Questo riconoscimento va a scardinare tutti gli alibi le scuse che ci siamo costruiti negli anni per rimanere immobili e rimanere a guardare altre realtà che crescevano mentre la nostra rimaneva sempre allo stesso punto anzi a volte pure regrediva. Il Governatore aveva nominato e insediato otto mesi fa un apposito Comitato Tecnico Scientifico formato da funzionali ed esperti che ha valutato le istanze in conformità delle disposizioni normative che affidano alle soprintendenze l'istruttoria formale degli atti. C'è un Comitato Tecnico Scientifico costituito da professionisti che arrivano da diverse parti in Italia che ci stanno riconoscendo in maniera oggettiva hanno studiato il nostro caso e riconoscono la presenza a sciacca di una comunità vasta che sta lavorando insieme in sinergia attorno ad un obiettivo che è lo stesso per tutti valorizzazione, tutela e promozione del territorio. Il secondo alibi che ci siamo costruiti nel tempo è che la burocrazia è lenta e quindi non si può fare nulla. Voglio ricordare che la legge sugli ecomusei è una legge del 2014 e dal 2014 questa legge era rimasta bloccata in un cassetto da regione siciliana quando poi ci presentammo nell'aprile 2019 in assessorato il dottore dirigente Calapezza ci disse questo progetto non può andare perso datemi tempo due settimane di tempo dopo due settimane è uscito il decreto attuativo e noi così come altre realtà in Sicilia abbiamo potuto presentare l'istanza per il riconoscimento da parte della regione quindi è una comunità che ha sbloccato sostanzialmente una legge. L'ecomuseo dei Cinque Sensi mette insieme operatori commercianti personalità del mondo della cultura e dell'impresa con l'obiettivo di lavorare tutti insieme per valorizzare la città e i suoi beni culturali e quelli architettonici. Si tratta di un ecomuseo che vede uniti non un'associazione una categoria di professionisti ma tutte le categorie perché qui dentro ci sono B&B ristoranti barri pub i commercianti tutte le associazioni quindi veramente una comunità nel senso più vasto del termine che si mette insieme e lavora in maniera sinergica attorno a un obiettivo che è comune a tutti motivo per cui per esempio recentemente anche il giornalista Rai Emilio Casalini ha definito la nostra realtà un laboratorio in ingegneria sociale unico in Italia proprio per la vastità del territorio coinvolto e la trasversalità dei soggetti coinvolti che non sono coinvolti solamente sono i propri protagonisti di questo processo. Questo riconoscimento della regione concretamente in che cosa consisterà? Allora intanto un altro risultato raggiunto il Sciacca stava scompare no a tutti i circuiti regionali nazionali ecco adesso con questo riconoscimento Sciacca rientra all'interno di un circuito regionale che è quello degli ecomusei con connessioni verso circuiti nazionali e quindi questo è sicuramente un primo risultato a livello di promozione e visibilità un altro risultato poi anche dal punto di vista finanziario perché ho letto proprio una dichiarazione del presidente Musumeci saranno stanziati dei fondi proprio per supportare queste realtà perché come effettivamente afferma il presidente solo una comunità che la gente che abita in un territorio ha la capacità la possibilità di modificare di cambiare e sviluppare quel territorio quindi queste comunità devono essere supportate teatro teatro ad un anno dal debutto a Sambuca di Sicilia proda anche a sciacca le bisbetiche estremate spettacolo di Salvatore Monte con protagoniste Cinzia Deliberto Valeria Gulotta Consuelo Ciaccio e la partecipazione di una new entry Stefano Segreto l'appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 alla sala teatro della Chiesa del Carmine questa mattina abbiamo incontrato il cast per noi Francesca Ciaccio a un anno dal debutto a Sambuca finalmente le bisbetiche estremate approda a sciacca ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta e di questo dobbiamo ringraziare Don Stefano Nastasi parroco della Chiesa del Carmine che ha messo a disposizione la sala teatro che attiva alla Chiesa che ha un numero esiguo di posti perché siamo sui 100 posti però per noi è una soddisfazione poter essere finalmente a sciacca sabato alle ore 21 e domenica alle ore 19 e quindi poter essere nella nostra città dopo aver fatto più di 15 repliche quindi è una bella soddisfazione e speriamo ovviamente di poter abbracciare il nostro pubblico Non è stato facile trovare un luogo edoneo? No, non è facile perché è un periodo come diciamo sempre molto complicato qui proprio il numero esiguo di posti permette anche di poter essere più celeri nella organizzazione però è una bella sala teatro con un bel palco il sipario noi stiamo cercando anche di dare il nostro contributo per addobbare la sala ulteriormente la scenografia è già stata allestita quindi siamo pronte per queste due giornate di inferno e finalmente queste tre bisbetiche più il bisbetico diciamo così potranno calcare un palcoscenico a casa propria Cinzia De Liberto Valeria Gulotta e Consuelo Ciaccio le protagoniste che assieme alla New Entry nel cast Stefano Segreto hanno comunque proposto lo spettacolo nelle diverse scuole saccenzi Le Bisbetiche Estremate è una commedia divertente che tratta comunque temi importanti quali l'inseminazione artificiale parliamo dell'Islam quindi del terrorismo insomma in chiave ironica facendo riflettere comunque con questi temi e poi devo dire che è una commedia che mette il sorriso e penso che in questi momenti tristi rispetto a tutto quello che sta succedendo ci vuole anche un attimino di pausa e sorridere un po' per me è stata la prima volta io vengo da tutt'altro ho fatto un modello e per me era un'esperienza tutta nuova ho trovato una grande famiglia Salvatore mi ha chiesto di fare di fare di questa piccola parte gli ha detto a me non l'ho mai recitato mi ha detto non fa niente parla il meno possibile e mostra il più possibile quella è la parte che farò praticamente solamente il cameriere dell'hotel dove stanno i tre personaggi principali Valeria Golotta perché vedere questo spettacolo? Innanzitutto perché è una commedia molto divertente vengono trattati temi attuali fecondazione in vitro l'isis dei rapporti d'amicizia molto veri che rispecchiano la quotidianità letti sicuramente con una chiave molto ironica e molto leggera quindi l'invito? L'invito è domani sera e domenica vi aspettiamo domani sabato alle 21 e domenica alle 19 presso l'auditorium della chiesa del Carmine secondo appuntamento della rassegna Lager promossa dal comune di Sciacca tramite la biblioteca Aurelio Cassar con l'associazione culturale Nova dopo l'incontro olocausto di madre e figlia dello scorso 27 gennaio dedicato alle vittime della Shoah si prosegue con una mostra degli artisti Franco Accursio Gullino e Flavio Tiberti con pitture fotografie installazioni e poesie l'esposizione dal titolo Lager Trasmissioni sarà inaugurata domani alle 19 presso il complesso monumentale Badia Grande nei locali che ospitano la nuova sede della Polizia Municipale durante l'inaugurazione ci sarà la lettura di Sereno di Franco Accursio Gullino a cura di Raimondo Moncada la rassegna è sostenuta dall'associazione culturale Amici del Museo del Mare Sebastiano e Vincenzo Tusa Uni3 Circolo di Cultura Schene Academy dal comando di Polizia Municipale Giovanni Fazio Adesso i consigli della libreria Mondadori è l'ennesimo 31 dicembre Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia di Via Gonzaga gli stessi amici che negli anni 80 passavano i pomeriggi seduti sui motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi e che ora sono dei quarantenni alle prese con divorzi figli ingestibili botulino e sindrome di Peter Pan ma quello che a distanza di 30 anni accomuna ancora coi ragazzi è l'aspettativa di un sabato sera diverso dal solito in cui forse succederà qualcosa di speciale un bacio un incontro una svolta un senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul telefonino che tarda ad arrivare un messaggio che potrebbe riannodare il filo di un amore che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza che forse era quello giusto e che torna a fare battere il cuore nell'era dei social quando spunte blu playlist e selfie hanno preso il posto di lettere estruggenti musica sette e foto sviadite dalle lacrime una nostalgia del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe rassegnarsi a un mondo complicato competitivo e senza punti di riferimento che niente a che vedere con quello scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò fino al giorno in cui qualcosa cambia davvero il sabato diverso dagli altri arriva l'inatteso accade la vita sorprende e allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare la scialuppa e avventurarsi al nuoto nel mare della maturità quella vera non perdiamoci di vista di Federica Bosco Edito Garzanti Sciacca cultura del novecento è il titolo del nuovo libro dello scrittore Francesco Cassar che sarà presentato domani alle 18 nella sala convegni di Palazzo Lazzarini ex istituto Sant'Anna tra i relatori il professore Franco Lobù e il dottore Franco Giordano dell'arciprete Don Giuseppe Marciante e il giornalista Calogero Parla Piano l'iniziativa è patrocinata dal comune di Sciacca favole e storie per l'infanzia ritornano gli appuntamenti dedicati ai bambini all'interno degli spazi della biblioteca comunale di Sciacca a Palazzo Lazzarini con le attività del progetto Leggimi Piano Leggimi Forte le letture ad alta voce l'iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è promossa dall'assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca comunale Aurelio Cassar il gruppo di animatrici di flashbook nati per leggere qualche giorno fa la giunta comunale ha deliberato l'adesione al programma nazionale di promozione della lettura nati per leggere rivolto alle famiglie con bambini in età scolare tra gli appuntamenti di Leggimi Piano Leggimi Forte programmati in questa fase e condotti dalle animatrici di flashbook si inizia oggi dalle 17.30 alle 18.30 a Palazzo Lazzarini ex istituto Sant'Anna il secondo appuntamento sarà il 6 marzo e il terzo il 3 aprile era l'ultima notizia abbiamo finito grazie per essere rimasti in nostra compagnia tutti gli aggiornamenti puntuali nelle prossime edizioni arrivederci a l'ultima notizia Grazie.